Assessore al bilancio campanile, il Comune di Quarto praticamente chiede il predisesto per accedere al fondo di rotazione per pagare i debiti fuori bilancio nell'arco di 10 anni. Sì, noi in sostanza con il provvedimento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, secondo la normativa 243 bis del Tuelle, in sostanza accediamo a una procedura pluriennale di riequilibrio finanziario che appunto è di 10 anni, tra le varie misure c'è anche la possibilità di accedere poi al fondo per far fronte al ripiano e quindi al rientro per appunto il riequilibrio dei conti. In sostanza bisogna mettere in campo adesso in modo serio da parte di tutti, dalla parte politica ma soprattutto anche dalla parte dell'amministrazione, degli uffici competenti, un piano nei 90 giorni dall'esecutività della delibera da sottoporre alla Corte dei Conti, quindi un piano di risanamento che attiene essenzialmente a quelle che, diciamo, le criticità che poi noi abbiamo trovato nell'ente, soprattutto per quanto attiene il condizioso latente, quindi con debiti fuori bilancio che in sostanza su questo versante noi dovremmo mettere appunto in essere un piano di rientro. Assessore, quanta responsabilità politica c'è, quanta responsabilità dei dipendenti della gestione amministrativa? Ma diciamo che questa in sostanza è una questione appunto di quelle criticità che dicevo prima che noi abbiamo ereditato perché debiti fuori bilancio che riguardano annualità precresse, quindi un condizioso latente. Qui ci sono varie questioni ancora di condizioso per quanto attiene l'alluvione, per quanto attiene il consorzio Crocillo, per quanto attiene la quarto multiservizio, insomma oltre questo poi ovviamente ci sono altri numerosi debiti fuori bilancio che attengono altre situazioni di contenzioso legale, quindi in sostanza è una massa che noi di debiti, quindi di sentenze dove l'ente è soccombente ma che vengono da anni precressi e quindi oggi con questo provvedimento noi facciamo in sostanza un'opera di risanamento che avrebbe già dovuto essere fatta già nel passato e noi oggi lo affrontiamo in misura trasparente facendo emergere tutte quelle che sono in sostanza queste situazioni critiche e quindi l'ente poi può ripartire in modo serio, fermo restando che appunto come dicevo prima si faccia un piano di rientro che dovrà essere approvato dalla Corte dei Conti e che noi attueremo.